Come affronti il processo di generazione di idee per la creazione di nuovi progetti? Per favore non rispondere partendo dal buco del mercato o da esigenze del cliente, ma sì più pragmatico. Mamma mia, cioè fa qualcos'altro, vuoi che ti venga a pulire anche casa? Scherzo. Innanzitutto quelli sono due ottimi punti per partire. Diciamo che ogni progetto, ogni idea dovrebbe partire individuando un problema reale e trovandone una soluzione. Qualsiasi idea dovrebbe partire così. Ti dico però come partono i miei progetti, però ti dico subito che è un grande rischio che mi prendo. Infatti in passato ci sono progetti che ho buttato nel secchio. I miei ultimi progetti, ti direi negli ultimi cinque anni, partono sempre da quello che faccio io e quello che serve a me. Cioè, mi spiego meglio, Quanteist, l'applicazione quantitativa, no? Quella è un'applicazione che io ho costruito non facendo ricerche di mercato o capendo che c'era un buco. No, semplicemente mi serviva un'applicazione che informatizzasse il mio processo e per ottenere le informazioni che oggi ho messo all'interno della mia applicazione e sono fruibili all'interno di Quanteist, dovevo aprire sette, otto applicazioni e siti diversi. Ed era una scocciatura, perché dovevo andare a prendere un po' di informazioni macroeconomiche da lì, un po' di informazioni fondamentali da là, un po' di informazioni della stagionalità da lì, poi per la parte tecnica dovevo andare a fare quello, poi dovevo fare i calcoli io sull'Excel. E questa era una grande noia. E allora mi sono detto, ma esiste un prodotto che fa questo? Perché a me risolverebbe dei problemi. Quindi sono andato a cercare se esisteva questo prodotto. Non l'ho trovato. Magari esiste, ma ad oggi io ancora non l'ho trovato. E allora mi sono detto, beh, forse se serve a me potrebbe servire anche ad altre persone. E mi sono messo a svilupparla. Ovviamente è un grandissimo rischio, perché non è detto che risolvendo un tuo problema, quel tuo problema sia poi un problema comune a tante altre persone. Perché quando crei un prodotto, un servizio, questo devi verificare il prima possibile. Ma questo mio problema esiste nella realtà? È un problema che c'ho solo io e altre 20 persone nel mondo? O è un problema diffuso? Perché altrimenti tu puoi creare il prodotto e l'applicazione più bella, ma se poi il target di riferimento sono 20 persone, capisci bene che non andrai molto lontano, no? E quindi velocemente creare un, quello che è un MVP, Minimum Viable Product, che fa poche, che ha poche funzionalità, ma che dai subito impasto a qualcuno. Per me ovviamente è stato, ti dico la verità, è stato più facile. Perché? Perché il mio prodotto in ambito economico-finanziario che ho creato, c'avevo già la community a cui proporlo. C'erano i miei studenti, che studiavano quindi il mio processo, le mie strategie, c'era la community. E quindi, che cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto, che sarà velocissima per me, darlo in pasto a voi e chiedervi, vi piace monitorare come veniva usato? Per esempio, dopo il primo anno, anno e mezzo, ho raccolto tanti feedback, motivo per cui 5-6 mesi fa, no, di più forse di 6 mesi fa, sì, vabbè, 6-7 mesi fa, abbiamo cominciato a buttare giù le specifiche per la seconda versione. Perché ho imparato tantissime cose. Te ne dico una, giusto per farti capire l'entità. L'applicazione è estremamente tecnica. È difficile da utilizzare come feedback che ho ricevuto, se non sei addentro a delle dinamiche o se non capisci bene come funziona il mio processo, no? E quindi non va bene, non va bene perché non si rivolge ad un pubblico molto ampio. Quindi la stiamo re-ingegnerizzando e a settembre, dopo 6 mesi di lavoro, quindi altri soldi che ci ho speso sopra, 6 mesi di lavoro, a settembre usciremo con la nuova versione che invece, diciamo che, nasconde la complessità degli algoritmi di calcolo dietro, che c'è dietro, e ti dà già invece l'output finito, facile. E quindi ti dice quali sono le opportunità con vantaggio statistico maggiore. Poi la vedrete, però per dirti questo è stato il percorso. Quindi gli ultimi miei prodotti li ho sempre lanciati in questo modo. Il Macroverse, il mio servizio di analisi macroeconomica, quello è un altro prodotto che serviva a me in primis. Mi serviva un repository dove tracciare e monitorare l'andamento macroeconomico, le probabilità di finire in un regime, in un altro regime nel prossimo trimestre, i report dei dati, la watch list. E allora mi sono detto, forse se serve a me, fa comodo pure ad altri. Magari fa comodo a dei consulenti finanziari che infatti sono iscritti al servizio. Magari fa comodo anche alle persone che non hanno tempo, voglia, capacità di star dietro a tutte queste informazioni e vogliono avercele raggruppate. Infatti il servizio funziona. Di nuovo, quando fai qualcosa per te è un grande rischio. Solitamente la cosa migliore è cercare di partire da un problema che non è il tuo problema, ma che vedi, che osservi essere un problema di tanti. Un altro modo per partire che a me piace molto, questo l'ho imparato con dei corsi che ho fatto negli Stati Uniti, Silicon Valley in California, quando ero consulente di Adobe e Google, credo che in realtà questo era un workshop di Google. Il concetto era ci sono software, tool, prodotti enormi oggi, no? Che magari una multinazionale come Google, come Microsoft, come Salesforce produce, che fanno mille, mille cose. Sono prodotti immensi. Verticalizzando e creando un prodotto che invece non fa mille cose, ma ne fa una, ma la fa molto verticale e quindi tu ti rivolgi ad una nicchia specifica. Ti faccio un esempio. Salesforce è un CRM, in realtà è molto di più di un CRM Salesforce, no? Immaginiamo però che sia un CRM. Tu potresti decidere di creare non il CRM per tutti, perché Salesforce vende a tutti, a qualsiasi tipo di entità e di azienda. Tu potresti creare un CRM ottimizzato e specifico per gli studi di architettura, che hanno delle esigenze molto specifiche, che se si comprano Salesforce, poi se lo devono aggiornare per le loro esigenze, perché è un'industria particolare e tu potresti creare un prodotto solo per quella nicchia. Tra l'altro, rivolgerti ad una nicchia ti permette pure di spendere meno e di essere, di andare più col mirino laser quando devi andare a fare marketing e comunicazione. Perciò, questi sono, insomma, tutti quanti trucchetti che puoi utilizzare, altrimenti pensare di prendere una funzionalità di un prodotto e implementare solo quella funzionalità, perché magari, faccio un esempio stupido, tu usi Excel, ma alla fine di Excel usi solo due funzionalità in croce. E allora perché non fare un prodotto che fa solo quelle due funzionalità, che magari costa molto meno di Excel e che si rivolge al 3% di tutti gli utenti di Excel, che sono milioni comunque, no? E questo è un altro modo, secondo me, intelligente per creare prodotti.